Sì, saluti agli amici di Viber Wine, sono Francesco Marone Cinzano, sono produttore della Koldorcia Brunello di Montalcino. Koldorcia è sui strumenti dei territori di Montalcino e è produttore di Brunello di Montalcino, da più di 100 anni fa. Abbiamo produttato un tipo di tradizionale, un tipo di territoriale di Brunello di Montalcino, molto rispettivo di tradizioni, tradizionali fatti, tradizionali vini che sanno sul tavolo. Siamo anche organici, siamo stati certificati organici per più di 10 anni. e il vino che vorrei presentare a voi oggi è il Brunello di Montalcino Vintage 2017 da Koldorcia. Il 2017 era un anno molto caldo e seco, quindi avevamo una produzione molto piccola, ma molto concentrativa, molto strutturata e potente. Quindi è un Brunello di Montalcino che potete divertire in termini, ma potete anche guardare in un cellar per un lungo tempo. Il Brunello di Montalcino è un vino di celebrazione, quindi è un vino per speciali per anniversari, per anniversari, per festeggi, per birthday parties, per essere piaciuti con piacere, 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 piacere e così on. Quindi vorrei prendere questa opportunità per viaggiare tutto il buono con il Brunello di Montalcino per il Brunello di Montalcino. Grazie a tutti!